Spazio per andare, cerca la porta, bravi qui a bloccare tutto, si aprono spazi invitanti Prova la conclusione, una vera portata, il cotteriore non poteva farci nulla Si è rimasto un po' sorpreso visto la distanza Ha angolato il tiro, l'ha messa lì dove il portiere non poteva davvero arrivare Fondamentale la deviazione del palo in questo caso Siamo di nuovo in Paris